1. Gentilissimi, ben trovati in questo appuntamento di mercoledì 29 marzo. Le borse dell'area euro registrano un trend positivo per la terza seduta consecutiva. In particolare, gli indici chiudono sui massimi registrati 15 giorni fa. Gli investitori concentrano la loro attenzione sulle banche e si torna a parlare di Credit Suisse con la notizia sorprendente di oggi che riguarda il ritorno di Ermiotti al comando di UBS. In questo clima il nostro indice Fuzimib si apprezza di un punto e mezzo e vediamo il trend nettamente progressivo che lo riporta sopra i 26.700 livello registrato a metà marzo. Tonico anche il DAX che avanza del più 1,20% circa superando i 15.300. Sembra quindi che il settore riconquisti una certa stabilità anche oltre oceano, motivo che spinge al rialzo anche gli indici di New York in queste prime ore di contrattazione. Il Nasdaq guida Wall Street grazie alla riorganizzazione annunciata da Alibaba e si avvicina al punto e mezzo di guadagno, mentre Dow Jones si attesta sopra il mezzo punto percentuale. La maglia rosa di quest'oggi è in realtà la maglia nera di ieri. STM infatti recupera ampiamente dal quasi meno 3 di 24 ore fa, finendo per salire di oltre 6 punti percentuali. Tra i motivi c'è anche la notizia su Alibaba a cui accennavamo poco fa. Tutti positivi i bancari in primis Monte dei Paschi che lo ricordiamo è tornato a far parte del Fuzzimib dal 20 marzo. Anche Banco BPM più 3,72 e Biper più 2,72 riescono tuttavia a inserirsi tra i migliori di giornata. Cambiando comparto si segnala anche Moncler che supera di poco il più 3%. I titoli negativi sul listino principale sono solo 4. Diasorin è il peggiore in questo caso è il contrario rispetto a STM visto poco fa, ovvero ieri c'era stato un netto progresso più 2,04 mentre oggi una netta discesa, meno 1,98. Iveco è l'altro titolo che supera il punto di passivo visto che il bilancio finale è negativo esattamente di 1,5. Meno rilevanti i cali di Tenari se ricordati. Dal Forex si mette in evidenza il cross Euro-Yen che accelera a quota 143 superando il punto percentuale di progresso. Stabili gli altri due incroci principali, Euro-Dollaro si riconferma a quota 1,08 così come Euro-Sterlina a 0,87. Ed ora il parere e la panoramica su piazza affari di Pietro Di Lorenzo. Ospite delle interviste di Traderlink di oggi Pietro Di Lorenzo, trader indipendente, ideatore di SOS Trader e degli eventi investing. Allora Pietro, mercati positivi però mi facevi notare i dubbi sulle banche restano. Cosa sta succedendo? Sì, buongiorno, grazie per l'invito. Ti mostro il grafico intraday del Fuzzimib da cui è evidente che in questo momento siamo sui massimi di giornata. Sono le 11 e un quarto e quindi una giornata partita bene poi con questo veloce swing e poi di nuovo sui massimi. Quindi l'impostazione dell'intonazione generale è discretamente positiva. Ti mostro il grafico giornaliero del Fuzzimib che evidenzi in queste ultime battute di marzo come questa settimana si è iniziata discretamente con due dei martedì positivi e oggi anche siamo in verde. Detto ciò, a mio avviso le vicende recenti sul mondo bancario, in primis in America con la Silicon Valley Bank e poi col caso Credit Suisse fra l'altro è di poco ore fa la notizia di Rimiotti che torna a guidare UBS e questa è una notizia da poco. Insomma dicevo il tema è questo, non credo che questi dubbi, queste perplessità che hanno gli operatori su alcune banche nello specifico vengano spazzate via nel giro di poche sedute. È stato un colpo non banale, nel senso che l'idea che alcuni colossi come Credit Suisse avessero bisogno di un salvataggio fatto nottetempo in qualche modo lascia il dubbio su tutta la tenuta del sistema bancario, soprattutto in America dove le banche regionali a seguito di una deregulation di Trump avevano insomma delle regole meno, come dire, un po' meno, che salvaguardavano un po' meno gli investitori. Detto ciò, il consiglio che mi sento di dare è quello di dedicarsi probabilmente più al trading di breve termine, non lasciarsi troppo ingolosire magari su discese repentine di alcune banche, in particolare quelle più a rischio perché insomma il sistema bancario, il settore bancario è molto delicato, la paura spesso può predominare sulla lucidità e quindi in questa fase io stesso mi sto dedicando più a operazioni di corto raggio evitando insomma di prendere posizioni in maniera troppo forte. Mi aspetto un secondo trimestre, ormai siamo alle porte di questo secondo trimestre sfidante, in cui ci sarà un fight to quality, nel senso che non come abbiamo fatto l'anno tutto entrerà un po' nel calderone degli acquisti, ma ci sarà maggiore selettività e quindi per certi versi si apre un trimestre ancora più sfidante rispetto al primo. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per tutte le informazioni e rimando con te l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie mille. Grazie Rossana e Pietro per il contributo, ringrazio voi che ci avete seguito anche per oggi il nostro appuntamento termina qui, vi rinnovo l'appuntamento a domani. Un cordiale saluto dalla nostra redazione. Grazie a tutti.